Incomedia è un'azienda di Vrea nata ormai 26 anni fa e è un'azienda che produce un software con il quale gli insegnanti insieme agli studenti possono creare contenuti didattici, siti web, magazine e blog in maniera molto molto semplice. Questo quindi consente di avere dei tempi di apprendimento molto molto veloci e di avere poi ovviamente la possibilità di creare del materiale che è molto creativo e molto fantasioso e molto utile per gli studenti. È un'azienda come dicevo prima italiana ma è un'azienda che vende soprattutto all'estero quindi in quanto il software website X5 è tradotto ormai in 19 lingue diverse.